Oggi vediamo insieme le differenze fra il Bimby Sparkling Limited Edition e il classico Bimby TM6. Se mi seguite fino alla fine li accenderemo pure insieme. Allora, dicevamo che questi due Bimby sono esattamente lo stesso modello il TM6, l'unico attualmente in commercio. La differenza, li mettiamo in comparazione, la differenza sta nel discorso principalmente di design. Questo è un Limited Edition Sparkling che prevede una scocca tutta nera sia nella parte frontale e anche nella parte laterale di dietro. La parte frontale ha una lavorazione che permette un riflesso diamantato, in modo che a seconda della direzione della luce che colpisce la scocca, dà dei riflessi cangianti. È un articolo, diciamo, in Limited Edition per cui sarà disponibile solamente nel mese di giugno. Ma il Bimby Bianco, il classico TM6 che c'è sempre, stato, continuerà a esserci sempre. In questo momento abbiamo la possibilità di scegliere. Mi piace di più il classico bianco, scocca bianca, lucida, adattabile a qualsiasi ambiente. Oppure preferisco una edizione limitata che ho a disposizione solamente in questo mese, con una scocca rinforzata, diciamo, fortificata e quindi più resistente agli urti e a qualsiasi graffio. Ho pure il mio classico bianco, oppure lo Sparkling Limited Edition. Forse è meglio il bianco. No, in realtà il Limited Edition è più prezioso. Non so, la scelta è solamente una questione di gusti. Sicuramente dal mese di luglio non avrò questa scelta, avrò sempre e solo il classico Bimby Bianco. A me piacciono entrambi, però, diciamo, è un discorso di cucina, come si adatta alla vostra cucina, moderna, oppure a un discorso semplicemente di gusti. Proviamo ad accenderli insieme, premendo. Le funzionalità sono esattamente identiche, avendo tutte e due un modello Bimby TM6. La differenza sta solamente nell'estetica. Anche nell'accensione, come vedete, percorrono lo stesso percorso, per cui sono esattamente identici a livello di funzionalità, di accensione e di tutto il resto. Grazie a tutti.